Calendario della consapevolezza, casella numero 18. Oggi voglio parlarvi della cura, perché nel nostro attraversamento, nel nostro esercizio quotidiano per la ricerca di uno stile di vita consapevole abbiamo scoperto, abbiamo ascoltato, abbiamo iniziato a prenderci carico della nostra fragilità, della vulnerabilità della nostra esistenza e l'abbiamo scoperta come questione in qualche modo irrisolvibile, della quale semplicemente, tra mille virgolette, possiamo prenderci cura, cioè possiamo averla a cuore. E allora pensando a questo ho trovato una foto, un'immagine a cui tengo moltissimo. Sono bimba, la più piccola, con mia sorella e mia madre. Ci sta mostrando qualcosa, siamo vicine, ci tiene e guardiamo tutte nella stessa direzione. Ecco, forse questo è uno dei tanti modi in cui mi piace immaginare la cura. Tenersi stretti, indicarsi con lo sguardo qualche cosa di importante, qualche cosa che ci dia un filo a cui attaccarci anche nei momenti di difficoltà, una natura che ci avvolge, qualcosa a cui sentirsi connessi. Perché la cura è anche questo, la possibilità di sentire in maniera viva l'interconnessione, l'interdipendenza e prendersene cura e lasciare che altri si prendano cura di noi. E allora la cura delle persone, la cura della natura, la cura di tutto ciò che è fragile, delicato, richiede delicatezza, gentilezza, attenzione. E allora vi invito a cercare un'immagine che per voi è la rappresentazione della cura. Per me è stata una fotografia, per voi potrà essere qualcos'altro e dialogarci e fare caso al fatto che spesso e volentieri noi per curarci abbiamo bisogno di storie. A volte è la nostra, a volte sono altre narrazioni. Come sapete io utilizzo spesso le storie perché sono curative, così come i miti, così come i simboli. Perché ci fanno sentire appartenenti a qualcosa di più grande di noi, di universale, ma che da sempre si racconta una possibilità tanto di caduta quanto di resurrezione, di rinascita. E questa è la cura. È il sentirsi appartenenti e vicini a qualcuno che ti aiuta a sentire che la vita, come direbbe Romano Madera, va sempre sopportata ma anche benedetta. E io credo che questo sia davvero importante perché quando non c'è cura c'è incuria appunto, c'è disperazione, c'è qualche cosa che si disfa perché non viene tenuto insieme da uno sguardo amorevole. E allora vi invito a gettarlo su di voi, a gettarlo sugli altri, a gettarlo sulla natura e a fare i conti con questa delicatezza, non per sentirla come fonte di timore e di frantumazione, ma anzi come possibilità che noi abbiamo sempre come esseri umani di fare la differenza perché dall'incuria si possa passare alla gioia, alla bellezza della cura. A domani.